Quell'intesa che conduce i battistrada al suono della campana, ancora 10.200 metri prima della conclusione e poi quei 1.500 metri di salita, metà di quali sullo sterrato. Un vecchio sentiero tirato a nuovo, un lavoro magnifico che ha consentito al trentesimo Gran Premio Sportivi di Sovil di esaltare le doti dei più meritevoli, che continuano ad essere Sannino, Turnieru, Fortunato, Tomio e Sabatini. Per loro è l'ultima fatica, hanno un margine rassicurante, il gruppo non guadagna che qualche secondo sulla testa della corsa. Anche l'ultima salita di questa internazionale sta scorrendo quindi via Lissia, senza scatti, nessuno di cinque al comando accenna a partire, si va su regolare senza sussulti. Quindi probabilmente la fatica è il limite di 120 km, che sono una distanza più che ragguardevole per questa categoria, anche perché siamo solo ad inizio di stagione, sta volendo la sua parte. Al termine di questa rampicata un paio di chilometri di falso piano molto più adatto ai colpi di mano, ma prima dell'ultimo chilometro c'è ancora una disesa dove i ricopri possono tranquillamente andare a buon fine. Quindi corsa ancora aperta e bella ed incerta fino all'ultimo. Ottimo lavoro quello di Ottavian, Bacichette e Company che hanno preparato ed ideato un tracciato veramente da grande classica degno di questa giovane internazionale. E come era da previsioni sul falso piano scatta Giacomo Tomio, Unione ciclistica Valle di Non, lo marca stretto Lorenzo Fortunato della Work Service e rimangono in due nella disesa che conduce nell'abitato di Nervesa della battaglia. Ma dopo un primo sbandamento si rifanno sotto nuovamente anche Sannino, Sabatini e Tornierò che sullo scatto di Tomio era quello che maggiormente aveva accusato. Si riforma così il quintetto in vista dell'ostricione dell'ultimo chilometro laddove con uno scatto bruciante sorprende tutti Giacomo Tomio. Il Trentino parte e Fortunato replica ma si trova da solo senza collaborazione a cercare il recupero. E per Tomio quei pochi metri rubati sullo scatto diventano prima 50 poi 100 e quindi il lassia passare per andare incontro ad un successo di prestigio nel trentesimo Gran Premio Sportivi di Sovilla. Azione perentoria al secondo scatto di Tomio in questo finale quello buono con gli inseguitori che restano a ruota di Fortunato che oramai nulla può per rimediare questa situazione. E così tutto solo sul traguardo di Sovilla arriva da trionfatore Giacomo Tomio o Unione Ciclistica Valladinò che compie i 126 chilometri in 3 ore 15 primi e 7 secondi alla media di 38 746. Per la seconda piazza lo sprint a quattro tra Fortunato, Sannino, Sabattini e Turnierò è vinto nettamente dal talento della Work and Service Lorenzo Fortunato che precede nell'ordine Sabattini, Sannino e Turnierò. Poi a 35 secondi i primi inseguitori con sei lize Sanvedemiano Team CF che coglie la sesta piazza davanti a Mancini, Fedeli, Velasco e Galimberti. Andiamo ora con le interviste ai protagonisti del trentesimo Gran Premio Sportivi di Sovilla. Nessuna squadra aveva la corsa in mano quindi ho detto proviamo adesso e è andata bene. Poi nel finale ho provato ad allungare dopo il GPM, Fortunato ma ci ha ripreso in discesa. Poi qui nel finale all'ultimo chilometro sono partito e sono arrivato da solo, era la vittoria che volevo. Attesa da parecchio tempo, una vittoria che vale una stagione allora? Sì, era un'inizio di stagione dove andavo forte però non raccoglievo niente e oggi è arrivata una bella vittoria. Ma sì, questo è già il terzo e l'edio.